ciao a tutti e benvenuti a questo video di mages of lotus oggi vi porto il modern di arena timeless una settimana è passata da quando è uscito questo formato e quindi voglio dare la mia impressione che è anche un po diciamo sostenuta da alcuni dati nel senso che ho fatto un po di ricerca ho visto un po di articoli che sono usciti quindi un recappino diciamo alla fine della prima settimana circa del formato di vita tra l'altro perché proprio c'è nuovissimo allora per ricominciare mi piace commentare iscriviti al canale soprattutto abbonarvi è molto utile per noi cosa manca una cosa come un caffè al mese ma noi cambia davvero tanto e inoltre vi ricordo anche il codice sconto lotus 5 con fantasiastore.it che vi dà al 5 per cento sui prodotti non già scontati quindi ragazzi dagli che è natale è il momento di fare i regali all'ultimo che vi siete dimenticati e quindi da fantasia vi arrivano in tempo allora piccola premessa il formato è ancora molto nuovo e non si può parlare top tier infatti come noterete nel titolo ho messo i migliori mazzi ma hanno messo i top tier è una differenza lieve ma voluta allora perché uno è formato una settimana di vita e quindi è troppo poco due non ci sono chissà quanti professionisti che ci stanno giocando e che stanno testando per cercare di romperlo ci sono giocatori forti che fan tanto mythic ci sono giocatori forti in generale ma i team professionisti non stanno sicuramente pensando al timeless e quindi i mazzi sono un po così non sono ancora ottimizzati 3 molta gente non ha capito il power rail del formato o in alternativa è conscia ma gioca le pet card perché sì esempio far stupido per farvi capire molta gente magari potrebbe dire io gioco bloodbred elf perché mi piace giocare bloodbred elf perché ho nostalgia ma non è detto che sia una delle carte migliori da poter giocare anzi probabilmente non lo è e quindi loro giocano appunto per un effetto di a questa carta mi dà dei bei feelings mentre la gioco per divertimento quindi questo mix di fattori fa sì che i mazzi magari abbiano un po di influenze che fan sì che alcuni magari sono forti in questo momento ma non dovrebbero esserlo quindi vi invito a prendere tutti i giudizi che vi do con le pinze perché per tutti questi motivi più fatto che presto però almeno avete un'idea di base altra cosa che posso dirvi il fatto di mettere come ho messo nel titolo che questo è il modern di arena non è esagerato il power level è elevatissimo ragazzi effettivamente sembra di giocare modern quindi proprio il modale che siete abituati voi anche io stesso abituati tutti ma senza alcune carte per dirgli elementali non ci sono perché non li hanno non li hanno ancora messi su arena gli elementali intendo quelli le le incarnation lì quelli a 0 gli scammer ecco e anche altre carte ma tendenzialmente il power level è davvero quello cioè fai brainstorm fai spada sfiga che sono roba che addirittura non c'entra niente col modere quindi anzi sono più alto un livello più alto perché legacy bolt push hanno le kit le line binding pagando uno cioè ragazzi effettivamente un modo alcuni mazzi vedete che sono praticamente quelli di modern cominciamo se non avete il video viene lunghissimo e io non ho intenzione di farlo troppo lungo voglio andare una roba abbastanza go 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 il primo mazzo che vi presento che ha fatto buoni risultati e giand e direte a come insomma sei di parte ma effettivamente giand è forte nel formato allora la versione che gioco io è la versione zoomer quindi quella con la curva bassissima e come l'urrus come companion il mazzo è forte perché perché può giocare le migliori creature come drop a 1 tra guardi channeler ragavan death ray shaman e in più ha il miglior drop a 2 del formato orcish bow master che non è purtroppo non è il tarbo che fa con non è lui il miglior drop a 2 ma è orcish e la cosa in realtà viene anche migliorata perché gioca anche le migliori rimuove del formato che sono annulli it push e volendo line in bold qua adesso non ce l'ho line in bold comunque anche line in bold può giocarlo gli manca l'unica come come rimozione forte spada spighe però capite che lei praticamente tutte tranne una in più ci sono anche gli scartini che male non fanno uno dice ma il tarmo la giochismo perché sei affezionato sì ovvio però tensione in realtà il tarmo che fino al formato è forte al momento perché molta gente sceglie di avere come rimozione di riferimento bolt e altri mazzi invece possono permettersi solo il bolt che vedremo dopo e quindi fa sì che il tarmo non sia sempre così facile da levare perché gli rimane solo come rimozione secca push e anche spada spighe però noterete che spada spighe non è così diffusa come dovrebbe essere al momento e quindi questo va tutto vantaggio del golf e altra cosa uno dice può morire da no lit ovvio però mi ricordo che nel formato c'è anche the fresh shaman quindi si riesce a avere un po di controllo sul cimitero e quindi a proteggersi il golf impedendo il delirio all'avversario quindi tutto sommato si è ancora una creatura decente in questo formato è forte ovviamente accompagnato da questi in druid che fa anche vantaggio carte e se no c'è la versione che schippa tutti questi drop verdi piccolini e gioca i bonzoni quindi un non direi boomerjand perché non è la stessa cosa anzi questo è più simile a boomerjand perché un mazzo che vuole fare un mix tra tempo e mid range ma adesso metto la carta scusatemi ecco ah beh questo caffettetto me lo fa vedere togli companion sheldred ecco c'è la versione che gioca appunto senza companion come lui con l'urrus ma gioca geganta e o addirittura nessuno perché se vuoi giocare sheldred non puoi mettere geganta ovviamente però in base insomma a come lo bildi e metti drop a 4 quindi c'è la versione no companion ma si sheldred e ovviamente a questo punto the one ring o la versione si companion geganta e metti minsk e boo che appunto se andiamo a prendere minsk e boo timeless heroes fortissimo anche questa è una carta che si è giocata solo in legacy uno dei place walker più forti come drop a 4 è davvero rottissimo quindi in base alla versione quale ti giocare potete giocare all jand più low to the ground più tempo base cioè quello clurrus o versione più mid range e quindi appunto le altre due versioni che avevo detto quindi no companion sheldred o si companion geganta poi l'altro mazzo che vi presento è ovviamente questo è un formato che come teorete ci sono le fecce le shockland e toxids quindi cosa si fa si perdono punti vita e quando si perdono punti vita qual è la miglior cosa da poter fare barn allora barn si può giocare in versione più botti o la versione red e queens che come questa qua che vi presento qui la red e queens ovviamente ha più creature che sono rapide man efficienti temeno e così via perché è forte perché appunto la gente paga tanti vite quindi riesci a ammazzarla mandandola in rich con i botti il fatto di essere monorosso ti può aprire la possibilità di giocare la blood moon che è una carta fortissima in questo momento nel formato perché le marabay sono molto gridi e qui come forte come in moda ragazzi a blando in questo formato e quindi si può tranquillamente utilizzare niente si può giocare appunto nelle due versioni anche questo è un mazzo molto molto forte finito non ce l'ho detto da dire vabbè alla fine monorosso che bisogna dire poi terzo mazzo che vi presento sempre un mazzo aggressivo molto molto forte e sta un po' emergendo finalmente come t1 del formato ma perché è molto 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 simile alla sua controparte di modern se non addirittura identica che è appunto zoo zoo pentacolor quindi tribal zoo come noterete gioca ragavan wine htl il nishova brawler e quindi tutte carte che potevi già giocare che puoi giocare adesso in modern territorio al cavo ma attenzione in base alla versione puoi anche giocare delle carte che sono bannate in modern cioè può giocare o con questo mazzo perché alla fine è castabile minsk e bu time in zero se lo puoi giocare once upon a time che appunto anche questa ci ha salutato la puoi giocare e quindi cazzarola se questa roba sposta non c'è mi pare il draco che è l'unica sfiga però vedete che il mazzo è molto 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 forte perché è forte perché combina un po' l'aggressività di barn cioè ti picchio ti picchio ti picchio ma ha combinato delle creature estremamente costo efficienti l'apertura al penta ti dà accesso tutte le migliori carte tu potenzialmente qua puoi giocare tutte le carte forti che ho citato prima cioè il fatto che puoi giocare il ragavan puoi giocare appunto lo shibou master puoi giocare il bolt puoi giocare il push puoi giocare non li gioca ovviamente però per dire la possibilità di poter avere tutto ti dà una mano incredibile riesci avere povertà devi pescarle un reach nel senso di poter colpire il meta in tantissimi punti perché tu hai i botti per colpire le creature e la faccia dei player ma hai anche i counter ma volendo puoi aprirti avere delle risposte specifiche per come si evolverà il meta l'unica cosa che ti richiede questo mazzo è possibilmente non avere doppi costi specifici perché è difficile avere tutto contemporaneamente e quindi ti libera lo slot come companion giganta a gratis perché tu in automatico farei sta cosa di non mettere le carte coi costi doppi e quindi perfetto che altro dire sul mazzo beh ovviamente però ha un punto debole incredibile morire da black moon che è presente nel formato giocatissima poi altro mazzo che vi voglio presentare ovviamente field questo invece andiamo a essere più sul lento quindi un'altra carta bannata che è molto forte che in modern non la vediamo più che è appunto il caro e amato field of the dead questa è una carta che ti dà un late game incredibile nel senso che dopo che tu la puoi triggerare quindi quando hai 7 terre con nomi diversi tu farai ogni volta che landi uno zombie 2-2 poi la cosa può staccare perché tu potresti avere più field of the dead per terra e quindi fare con una terra 2 zombie 3 zombie in base a quante ne hai ecco insomma è un casino allora per questo mazzo forte perché nel formato ci sono anche dei mazzi che vogliono un po' midrangeare abbiamo detto il jand di prima la versione non quella appunto l'urrus low to the ground ma l'altra versione c'è qualche mazzo controllo anche se un pochini quindi tu sei un mazzo che va on top a loro perché hai un'inevitabilità molto migliore rispetto alla loro e quindi puoi tranquillamente vincere questo è un mazzo però che effettivamente patisce tanto i mazzi aggressivi quindi adesso ci sono tante partenze aggressive nel nel formato e soprattutto interagisce poco notate che appunto lui cerca di fare l'ando tanto e pesco tanto e pesco tanto però viene punito dal lord ship bow master quindi tu devi trovare modi di sopravvivere nonostante il bow master dell'altro le tue pescate per poi appunto tirare il filo del eld super potenziato per carità ti vengono aiuto delle carte forti come anche channel che è solo uno per che è una roba restricted perché ci sono delle carte che puoi giocare solo uno per in questo formato che sono diciamo le bombe di vintage però il mazzo non è male ecco se volete un mazzo lento appunto molto molto là nella partita ma non volete il classico controllo questo è il mazzo che fa per voi poi passiamo a sul thai midrange che questo diciamo il midrange di riferimento nel formato nel vero senso della parola di mazzo non velocissimo più appunto sul lentino ma proprio c'è midrange del legno ecco come piace chiamarli a me praticamente è una cozzaia di carte che sono bannate allora voi giocate come acceleratore di mana the light draft link the fry shaman per poter accelerare e fare come vostro piano oko turno 2 cioè l'obiettivo di questo mazzo è fare sempre oko turno 2 e la cosa migliore che potete fare oko in questo mazzo fa tutto fa da survivability perché vi fa tantissimo food e quindi vi tenete in piedi e non morite vi fa da chiusura perché trasformate i vostri food in 3-3 che possono attaccare e parare quindi appunto tacco e difesa di nuovo meno 5 va a togliere i pezzi all'altro quindi se avete stabilizzato fa anche controllo quindi oko da solo è un piano talmente forse ragazzi non è che devo descrivi oko è bannato per qualche motivo se è bannato ovunque un motivo ci sarà backup plan uro che è giocato solo l'uno per perché? è perché questo mazzo gioca tante treasure cruise quindi avete una battaglia nel vostro cimitero per poter decidere dove delvare le carte perché o le mangiate di escape per uro o le mangiate su treasure cruise quindi in base a come va la situazione voi decidete notate che non c'è troppissima roba per fare cimitero in questo deck perché è un good stuff ha solo 4 bolle e quindi cosa succede? che effettivamente non avete possibilità di tirare infinite infiniti uro infiniti treasure cruise quindi appunto dovete scegliere a un certo punto perché se no non finiscono le carte mazzo forte midge del legno perché è bello perché ha una combinazione di colori ti dà accesso a tutto quanto quello che ti serve vuoi le removal? ti dà accesso a le removal hai accesso a Orch Boom Master che è una delle cose il migliore troppo a due del formato quindi già solo il fatto che hai accesso a questa carta è una grandissima cosa e ti dà accesso anche al blu quindi ha dei ottimi counter buon mazzo buon mazzo un po' troppo delle mie prime gusti ma buon mazzo e poi abbiamo come ultimo mazzo che vi voglio presentare UR Tempo è quello che vi dicevo prima della questione della scelta che tu sei obbligato a giocare Bolt e quindi non hai push per il Tarm Goif o alcune creature allora UR Tempo assomiglia alla controparte di Modern però si sente la mancanza di una creatura grossa come il Murktite Regent ovviamente infatti praticamente il mazzo è lo stesso ma gioca solo in base alla versione sicuramente il Dragon Rage e il Ragavan in 4x e poi giocherà altre creature di supporto per averne abbastanza c'è chi gioca al Mono Snapcaster c'è chi gioca al Ledger Shredder insomma ci siamo capiti questo mazzo cosa ha di vantaggio per rispetto al Modern ecco che non c'è più il Murktite Regent ha un piccolo vantaggino effettivamente che è quello di avere la Treasure Cruise che comunque l'Ancestral non fa male a nessuno anzi è molto forte questo mazzo si può anche giocare un'altra versione che è abbastanza successo in questo momento si può beccare qualche volta il Ladder che è la versione Fenici è abbastanza diverso perché Fenici è più combo-esque che Tempo però la Shell è simile in base a cosa volete fare cioè essere più interattivi quindi giocare questo mazzo se volete essere invece più combo-esque giocate Fenici la cosa molto 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 forte di questo mazzo a parte ovviamente l'Atelier Cruise qual è? è che è un mazzo che supporta tantissimo la Blood Moon è in grado di tenerla benissimo e questo cosa vi dà? vi dà un grosso vantaggio che uno voi non la patite e quindi già blancate una strategia che potrebbe avere il vostro avversario la rendete inutile e due voi siete la minaccia che avete la Blood Moon in più siete un mazzo che può fare la Blood Moon coperta perché vedete che voi avete i spell pierce avete i counterini avete un bel po' di roba e quindi potete proteggere bene la vostra luna e proteggerla bene fa sì che l'altro cioè già può tirare una spell a turno se gli va de culo una volta che risolve gazzarola ce l'ho matta sull'una seppure quella monospell gliela counterate quindi very very good da questo punto di vista i mazzi che non ho citato che potrebbero far venire dubbi a alcuni di voi allora perché hanno messo alcuni combo Winchama Comics ma c'è forte Sneak and Show ci sono forti gli Storm sì i mazzi combo sono fortini nel formato ma gli mancano ancora tante carte per poter eccellere e quindi non stanno ancora facendo ottimi risultati per dire lo Storm classico non sta facendo granché perché appunto gli mancano tutte le carte forti da Storm per fortuna perché sono troppo forti quelle carte che evidentemente gli mancano Sneak Attack non gli manca troppissimo perché Sneak Attack Atrax e Gris ma ci sono ma è una spell che costa 4 già Oko è molto forte nel formato ma il fatto che costi 3 è pesante cioè questo in questo formato non sembra ma 3 mana sono pesantissimi e quindi figuratemi una spell che costa 4 in realtà 5 perché un mana per attivarlo e quindi viene punito dal fatto che costi troppo una volta che riesci attivarlo vince sempre perché c'è GG però appunto avete visto anche solo come Rajand estremamente low to the ground estremamente efficiente rischi di non riuscire a attuare il tuo piano combo perché c'è troppa di disruption a costo basso data appunto da scartino più minaccia a costo basso quindi l'altro fa pressione da subito data da pressione più protezione da Stubber Denier quindi counterino come Zoo stessa cosa che fa a tempo però con spell diverse e così via quindi per questi combo secondo me sono un po' debolini al momento magari qualcuno troverà una lista forte e ci vincerà vedremo e l'altro mazzo che non ho ancora messo effettivamente che dovevo mettere perché sono dimenticato di inserire una lista che vi cito così pur parla in fondo è Mono Nero Necropotence che assomiglia abbastanza alla versione di Mono Nero che si gioca in modern però qual è la sua sfiga principale è il fatto che appunto non è in grado di generare un gagilion di mana quindi per questo non ho messo a parte averlo leggermente dimenticato è il fatto che effettivamente non è estremamente troppo forte perché ha bisogno di fare partenza a strappo con il Dark Ritual per fare appunto il Fast Mana e fare subito Necropotence iniziare a fare ok scambio uno per uno con le tue risorse ma pesco sette ogni fine turno perché appunto faccio Necropotence però tra l'altro c'è una piccola sfiga perché Necropotence non va in sinergia con Sheldr perché la carta non la stai pescando ma aggiungere la mano e quindi già questo è un ulteriore sfiga e quindi per questo è un mazzo che ha bisogno di un po' di giustatine e ha un po' di bagdo allora spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere voi cosa ne pensate del formato se vi diverte se vi piace se può andare come in direzione per il diciamo modern che avremo su Arena una piccola lamentela che vi dico già io che ho è che alcune carte che normalmente sarebbero comuni o uncommon sono fatte come rare come il Bolt ma la Wizard questa cosa un po' l'ha notata infatti se notate poi a parte l'archivio mistico tutti gli altri sette hanno lasciato le rarità abbastanza uguali di queste cartine così quindi speriamo che magari ci facciano un pacchetto in cui possano darci queste carte a costo ribassato perché al momento effettivamente il formato è estremamente costoso perché devi usare solo rare praticamente niente come al solito fate sapere la vostra spero che sia stato utile mi ripeto e quindi ci vediamo al prossimo video ciao ciao e fate i bravi